I cittadini sono più che preoccupati, io credo che c'è bisogno di far sì che ci sia l'intervento della Regione in modo forte, cosa che è mancato sinora sul trasporto pubblico. Da quanto tempo stiamo chiedendo un incontro al Presidente della Regione sul trasporto pubblico? Il Presidente Luca ha beneficiato per l'EAB di 600 milioni dal Presidente del Consiglio Renzi, noi attendiamo ancora dalla Regione quello che deve ANM perché ricordiamo che ANM non è l'azienda del Comune di Napoli, ANM è 100% Comune di Napoli ma è l'azienda di mobilità regionale come si vede su tutti gli autobus scritto della nostra città. Quindi forse è venuto il momento, tanto non mi sembra che sono terminate le campagne elettorali, di sedersi attorno a un tavolo e fare veramente gli interessi dei territori e delle città. Questo vale per il trasporto, come per la sanità, come per tutte altre cose, il tempo della propaganda è finito.